A Canale Monterano ritorna la Sagra del Cignale, evento organizzato dalla Contrada Carraiola. A 40 minuti da Roma e a mezz'ora dal litorale ti aspetta una festa con musica, intrattenimento, enogastronomia, all'insegna del divertimento, con piatti tipicamente locali. Vieni a trovarci, ti aspettiamo per stare tutti insieme dal 7 al 9 luglio a Canale Monterano.